Buonasera e benvenuti alla terza edizione del Tg6 che apriamo con la cronaca. 11 giovani indagati dalla procura di Pescara per furti, borseggi e assunzioni di sostanze stupefacenti. La gang sgominata dalla squadra mobile della questura di Pescara aveva fatto anche commettere un furto ad un bambino di appena tre anni. Il servizio è di Paolo Renzetti. Sono accusati a vario titolo di una serie di furti commessi in danno di esercizi commerciali e di abitazioni, nonché di borseggi, truffe online e atti vandalici. Per questi reati all'alba di oggi gli agenti della squadra mobile della questura di Pescara hanno eseguito una misura cautelare e restrittiva nei confronti di 11 giovani componenti di una terribile gang protagonista di alcuni episodi criminosi. Accaduti in città nei mesi scorsi, i giovani erano soliti agire sotto l'effetto di stupefacenti per darsi coraggio e riprendere le loro imprese criminali con l'uso di smartphone. In totale sono stati 11 giovani indagati, tra cui un minore, uno dei quali è finito in carcere, mentre per altri due sono stati disposti gli obblighi di dimora. Ci ha colpito il fatto che procuravano danni ingenti per conseguire poi dei profitti a volte irrisori e in altri casi c'erano dei comportamenti non spiegabili, irrazionali, degli atti di vandalismo che non avevano una motivazione. Poi le intercettazioni ci hanno spiegato il perché di questi atteggiamenti, perché questi ragazzi erano soliti drogarsi prima di colpire e lo facevano proprio per darsi coraggio. Però questo li rendeva anche più pericolosi perché non erano pienamente consapevoli evidentemente di quello che facevano. La banda nasce per strada da contatti occasionali, rapporti di amicizia, di conoscenza, di frequentazione che poi vengono cementati e si aggregano sul tema comune della droga e della delinquenza di strada. Quel video mostra un padre che incita suo figlio a commettere un reato e poi lo premia. Non è il valore in sé del pacchetto di patatine ma è il disvalore, quello sì elevatissimo del gesto. Noi abbiamo inoltrato una segnalazione al tribunale per i minorenni e speriamo che quanto prima ci sia una giusta valutazione anche sulla capacità genitoriale nell'ambito di questo nucleo familiare. Ancora cronaca e ci spostiamo a Vasto. Una violenta deflagrazione questa mattina dopo le 5 ha fatto collassare una struttura usata come pertinenza di un'abitazione in via Maddalena al civico 53 a Vasto. A causare il crollo l'esplosione di una delle due bombole utilizzate nella cucina. Non ci sono stati feriti mentre hanno riportato danni un furgone parzialmente andato a fuoco e un'autovettura sulla quale è finita una porta dell'edificio e alle vicine abitazioni. Tanto spavento e i primi a prestare soccorso sono stati i vicini, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato e delimitato la struttura. Al momento non risultano persone coinvolte, dice il vicequestrore Alessandro Di Blasio, dirigente del locale commissariato, dopo aver parlato con il titolare dell'abitazione. Ma vogliamo fugare ogni dubbio se per caso qualcuno invece abbia utilizzato i locali nella notte. Ora invece andiamo a Teramo, un sequestro di attrezzature telematiche all'interno di tre sale scommesse nel Teramano. In un'operazione odierna della Guardia di Finanza, i tre centri scommessi erano collegati a bookmaker esteri non autorizzati. Il servizio è di Elisa Leuzzo. Esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa. Questa, l'ipotesi di reato contestato a quattro gestori di tre diverse sale scommesse situate nel territorio Teramano. Una operazione della Guardia di Finanza di Teramo che questa mattina ha portato al sequestro di attrezzature tecniche presenti all'interno degli esercizi pubblici. Nello specifico, la sala scommessa è denominata Aleabet Sita in Bellante alla Via Nazionale. Stessa insegna per quella di San Nicolò a Tordino in via Cristoforo Colombo ed infine la Bet 1128 Sita a Teramo Centro in via Lebovio. Dall'attività svolta dagli agenti della Guardia di Finanza è emerso che le tre sale esercitavano abusivamente la loro attività di raccolta e gestione telematica di scommesse a favore di un bookmaker straniero senza essere in possesso dei requisiti normativamente prescritti, senza licenza di polizia e della concessione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le tre sale scommesse esercitavano per conto della Phonics International LTD, società con sede a Malta sprovvista di concessione governativa e di licenza, già nota alle cronache, in seguito ad altre attività dedicate al contrasto dell'illecito collegato al gioco d'azzardo. Sotto sequestro sono finite tutte le apparecchiature tecniche, pc, maxi schermi, stampanti, terminali per la concessione telematica, modem e ricevute di scommesse. Indagati per i reati di esercizio abusivo di attività di gioco, quattro soggetti italiani, tutti teramani. I provvedimenti di sequestro sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Teramo su istanza del Pubblico Ministero. Il sequestro di 321 mila fuochi pirotecnici per un peso complessivo di 315 chili e di 3 milioni di palloncini gonfiabili e la denuncia di 5 persone alle autorità giudiziarie di Vasto, Lanciano e Avezzano, il risultato dell'attività di indagine che a seguito al controllo di un'autovettura sulla statale 650 Fondo Valle Trignina dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Vasto ha permesso di risalire a prodotti commercializzati nel periodo natalizio. Il materiale pirotecnico veniva venduto in un esercizio commerciale situato nell'Alto Vastese mentre nella Marsica era stata avviata una fabbrica per la produzione di palloncini gonfiabili senza il marchio di certificazione europea che costituiscono un potenziale elemento di danno per la salute del consumatore e in particolare dei bambini. Tutta la merce sequestrata ha un valore di 3 milioni e mezzo di euro. Andiamo all'Aquila, è di due morti il resoconto, il primo è un 35enne di Paganica che ha ingerito dell'acido, la seconda invece è un'anziana colpita ieri sera da infarto mentre era alla guida della sua macchina. Ci dice tutto Daniele Rosone. Non ce l'ha fatta il 35enne di Paganica, popolosa frazione dell'Aquila, che ieri è stato ricoverato all'ospedale San Salvatore dopo aver ingerito acido muriatico. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, aveva delle difficoltà lavorative. In base a quanto accertato dagli agenti della squadra volante della Questura, coordinati dal dirigente Nicola Di Pasquale, l'ingestione dell'acido sarebbe avvenuta a ora di pranzo dinanzi alla compagna che da poco era rientrata in casa. Un collega inoltre sarebbe stato avvertito in precedenza con un messaggio. A soccorrerelo sono stati, intorno alle 14, i sanitari del 118, ma l'uomo dopo il ricovero è morto. Il 35enne era arrivato nella struttura sanitaria cosciente anche se in condizioni non buone. Una donna di 82 anni invece è deceduta ieri notte per un infarto mentre era alla guida della sua automobile nei pressi della Questura dell'Aquila. L'anziana era appena uscita da un centro ricreativo nella zona del Torrione vicino alla Questura e sentendosi poco bene alla guida ha fermato il mezzo nei pressi della Questura aquilana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante coordinati dal dottor Di Pasquale che hanno allertato subito il 118, ma all'arrivo dei sanitari la donna era già deceduta. Il cantiere per la ristrutturazione di Palazzo dell'emiciclo all'Aquila è stato aperto alla stampa questa mattina nel tour organizzato dal Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e l'intervento interessa una superficie di circa 6.000 metri quadri e la fine dei lavori è prevista per il 2017. Il servizio. Chiuse dal giorno del terremoto si sono aperte oggi le porte del Palazzo del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il cantiere affidato con un iter burrascoso corredato di ricorsi tra le ditte partecipanti è stato appaltato per 8.833.000 euro. Il cantiere dovrà essere riconsegnato in 495 giorni lavorativi. L'intervento di ristrutturazione e qualificazione riguarderà una superficie di circa 6.000 metri quadri. In particolare sono state poste in evidenza le soluzioni adottate dalla ditta appaltatrice che ricordiamo è il raggruppamento temporaneo di impresa composto tra Rosa Edilizia SRL, Ricci Guido SRL ed elettroidraulica Silvia SNC. Le scelte sono quattro. Un drastico abbassamento dell'accelerazione alla base dell'edificio tramite un isolamento. La riqualificazione delle parti storiche e monumentali. Nuove soluzioni per il miglioramento energetico e sostenibilità ambientale dell'edificio. La reintegrazione del complesso regionale con lo spazio urbano e il centro storico dell'Aquila. Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pancrazio ha comunicato che le sedute dell'Assemblea continueranno a svolgersi nell'attuale sala consigliare. Ma è anche in corso un dialogo con l'amministrazione comunale per valutare l'opportunità di chiudere al traffico l'attuale via d'accesso al Consiglio regionale via Michele Iacobucci consentendo al palazzo dell'istituzione regionale di riconnettersi con la città e con la villa comunale abbattendo così le attuali recinzioni e l'emiciclo potrà tornare ad essere la facciata nobile della piazza del monumento. Entra nel confronto pubblico la problematica del metanodotto Larino Chieti. Il comitato di coordinamento regionale del via ha infatti indetto per lunedì 18 gennaio presso l'auditorium di Palazzo Silone all'Aquila una inchiesta pubblica nel rispetto delle competenze fissate dal decreto legislativo 152 del 2006 e nel corso dell'inchiesta pubblica verranno illustrati gli aspetti tecnici del progetto presentato dalla ditta SG di realizzazione di un metanodotto che da Larino in provincia di Termoli raggiunge Chieti in sostituzione di quello già esistente. L'inchiesta pubblica che è stata convocata per lunedì è una delle prime esperienze in Italia in materia di consultazione pubblica per la valutazione ambientale. Andiamo a Pescara, si parla ancora di qualità dell'aria. I dati delle centraline Arta confermano che con le targhe alterne migliora la qualità dell'aria in città. Con la pioggia in arrivo la situazione potrebbe ulteriormente avere effetti positivi. Il servizio. Nel vecchio i numeri dicono che con le targhe alterne la qualità dell'aria a Pescara migliora. Tra l'altro con l'arrivo del maltempo, con la pioggia soprattutto, la situazione potrebbe ancora migliorare. È così? Ma è l'auspicio. Certo il sindaco quando ha adottato la misura delle targhe alterne per la tutela della salute pubblica l'ha fatta a ragion veduta e anche avendo preso contezza di chi qualche parere tecnico scientifico era in grado di poterglielo sottoporre. E i dati danno ragione. Voglio un po' ricordare a tutti coloro che hanno parlato di che il provvedimento non avrebbe dato efficacia facendo riferimento alle precedenti esperienze. Che nelle precedenti esperienze, sempre delle targhe alterne, ci si era limitati a una piccola area della città di Pescara. Di conseguenza i risultati erano certo allora noti. Oggi che invece il sindaco ha assunto una iniziativa forte, sia sotto l'aspetto soprattutto per quanto riguarda la qualità dell'aria e quindi la tutela della salute pubblica, dall'altra quella di limitare su tutto il territorio il traffico veicolare. Il risultato dà ragione al sindaco senza ombra di dubbio. Noi ci auguriamo che l'inverno, quello che spazza via le ulteriori polveri, però teniamo conto che in inverno la neve non sempre spazza via o quel tipo di maltempo non spazza via le polveri. Sono convinto che il sindaco, all'esito di queste e di altre, vediamo quale è il tempo che vorrà mantenere il provvedimento, potrà consegnare alla città un periodo veramente di salubrità dell'aria e anche perché no, insomma, anche una visione nuova della città che in molti, voglio dirlo, in molti hanno comunque apprezzato. La mozione Pescara porto nel cassetto per un mese. I consiglieri del Movimento 5 Stelle di Pescara chiedono che venga presentata in consiglio comunale considerando l'opera ricadente in zona dove si potrebbero creare problematiche di pubblica incolumità e che quindi venga al più presto discursa. Vediamo. Enrico Alessandrini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, voi avete presentato una mozione qualche giorno fa riguardo i lavori di Pescara porto. Ora dite che questa mozione è rimasta nel cassetto del sindaco. Cosa chiedete in particolare? Lo scorso 16 dicembre abbiamo portato in consiglio ed è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno che chiedeva appunto al sindaco di valutare la sospensione del permesso di costruire della Pescara porto per motivi che riguardano la pubblica incolumità, per il fatto appunto che quelle sono aree che la regione ha sottoposto a rischio di esondazione molto elevato. Questo documento approvato all'unanimità dal consiglio, ripeto, è rimasto appunto in un cassetto per circa un mese perché soltanto ieri la presidenza del consiglio lo ha inviato alla segreteria del sindaco. Nel frattempo abbiamo visto appunto che i lavori della Pescara porto sono iniziati, quindi ci chiediamo per quale motivo si è aspettato un mese per mandare una mail alla segreteria piuttosto che appunto fare le necessarie valutazioni. Voi cosa chiedete in particolare? Noi chiediamo appunto che siccome grazie a questo provvedimento regionale nelle aree a rischio di esondazione molto elevate il Comune ha dovuto bloccare tutta l'esecuzione dei lavori edilizie ed urbanistici, chiediamo semplicemente che la Pescara porto sia trattata nello stesso modo in cui vengono trattati tutti gli altri. La piccola opera Caritas di Giulianova a rischio per assenza di fondi e a scendere in campo è il nuovo centrodestra con Giorgio D'Ignazio. Vediamo. D'Ignazio si parla della piccola opera Caritas di Giulianova, del rischio chiusura di questa importante istituzione, la politica scende in campo, NCD scende in campo per cercare di salvare proprio la piccola opera Caritas. Sì, credo che sia dovere di ogni politico prima di tutto tutelare i lavoratori che sono tanti e che fra altre cose stanno portando avanti questo lavoro senza stipendio e ben oltre il loro dovere, fanno con il cuore e anche per i malati, per i malati per coloro che sono ospiti della struttura, per i genitori delle famiglie che sono molte volte anziani e che vivono col terrore che quella struttura possa chiudere e quindi ritrovarsi poi a non sapere che fare, come gestire i propri malati che sono all'interno della struttura quindi assolutamente va presa in mano questa situazione, va gestita, devo dire che comunque il manager della ASL di Teramo tanto ha fatto per almeno per l'annualità 2015, le cose stanno andando bene, è il pregresso che purtroppo non si riesce a gestire e soprattutto non la retta, il costo della retta va adeguata quindi credo che se non riusciamo a risolvere questo problema purtroppo la situazione diventerà tragica, fra altre cose anche i dipendenti bisognerà far capire le intenzioni perché c'è il rischio magari che da una situazione così poi non se ne esca fuori e queste persone continueranno anche a perdere tempo e non trovare una diversa distinzione, io credo che è assolutamente importante di tutti coloro che hanno a cuore questa situazione di combattere affinché si possa risolvere il problema. Gli ATC e le associazioni venatorie di Teramo, L'Aquila e Chieti contro l'assessore Pepe e l'ufficio caccia regionale per aver ristretto il periodo della caccia alla beccaccia, vediamo. Oggi una conferenza stampa per chiedere spiegazioni all'assessore Dino Pepe per quanto riguarda il calendario venatorio e a chiedere spiegazioni è l'ATC e le associazioni venatorie. Anche quest'anno siamo stati penalizzati, siamo stati penalizzati dalla politica e dall'ufficio tecnico regionale perché ingiustamente, ribadiamo ingiustamente perché hanno fatto delle istruttorie dopo sette mesi e mezza delle nostre pratiche che giacevano nei cassetti della regione già da maggio, solo il 7 di gennaio si sono ricordati che dovevano istruire le pratiche. Le abbiamo integrate perché ci hanno chiesto un'integrazione in merito alla percentuale censita, abbiamo dimostrato di aver superato quella percentuale prevista minima nel protocollo d'inteso dell'ISPRA, dopodiché si sono inventate un'ulteriore cosa, ossia che mancavano le cartografie nelle relazioni, cose non vere perché le nostre cartografie erano allegate alle relazioni già dal 28 maggio, ancora di più se si considera quelle nostre di Teramo, quelle dell'Aquila che avevano le stesse cartografie dell'anno scorso che hanno avuto parere favorevole. Pertanto questo comportamento ingiustificato della regione non è più sopportabile in Abruz e quindi a questo punto abbiamo diffidato la regione e procederemo a fare tutti gli atti affinché possiamo tutelare il nostro mondo venatorio che rappresentiamo. Intanto il 20 gennaio è prossimo, i 10 giorni disponibili per la caccia alla beccaccia salteranno? Sicuramente, ormai siamo su questa strada e quindi bisogna ammettere che il gioco preordinato dai dirigenti, dagli addetti tecnici dell'ufficio caccia regionale è riuscito, per cui con questo atteggiamento vessatorio nei confronti dei cacciatori, nei confronti di un'azione prevista dalla legge che è consentibile poter attuare, questi signori che ogni anno inventano qualche cosa di nuovo pure quest'anno stanno riuscendo nel loro obiettivo. Sono stati aggiudicati in via provvisoria i lavori per realizzare l'impianto di videosorveglianza del nuovo stadio dell'Aquila, entro 30 giorni ci sarà la verifica della documentazione dopo al via con i lavori, il servizio. L'appalto per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza del nuovo stadio di Acquasanta è stato aggiudicato in via provvisoria dalla ditta Sicce SRL di Agrigento che ha preceduto nella graduatoria la Marone SRL, la Stricigre SRL e la Michele Di Cola. Le buste sono state aperte martedì pomeriggio, in questo modo l'amministrazione comunale ha terminato la procedura di negoziazione per affidare questi lavori che rappresentano un passaggio molto importante e atteso per il completamento del nuovo stadio che ha subito ritardi eccessivi provocando il malumore dei tifosi rosso-blu che lo attendono ormai da anni. Affidamento provvisorio perché tutte le carte ora andranno al settore ricostruzione pubblica che dovrà ovviamente fare le opportune verifiche richieste dalla legge, vale a dire durca, antimafia e tutte le altre procedure richieste. Una fase che precede il passaggio dell'aggiudicazione definitiva con i 30 giorni nei quali altre aziende concorrenti potranno fare eventuali e possibili ricorsi. L'importo a base d'asta era di 299.557 euro. I tempi di realizzazione sono stati fissati invece in 28 giorni. L'assessore alle opere pubbliche del Comune dell'Aquila Maurizio Capri ha dichiarato che verranno montate circa 100 telecamere posizionate sia negli spazi interni che in quelli perimetrali, comprese le aree di accesso e i parcheggi. Capri ha promesso che l'impegno sarà continuo affinché quest'opera sia fruibile nel più breve tempo possibile. Torna a Cermignano la ventitresima edizione del Sant'Antonio, tre giorni di festa laica a partire da domani, 15 gennaio. Vediamo. Cermignano dedica tre giorni a uno dei santi più amati d'Abruzzo. Qual è il programma? Il programma è l'U Sant'Antonio, detto in termini dialettali nostri, ed è una manifestazione laica. Nel senso che non è la tipica festa religiosa legata al culto di un santo, nel nostro caso di Sant'Antonio Abbate, che è il proiettore degli animali domestici, come tutti sanno. ma è invece una rassegna dei canti di questo legati al culto di Sant'Antonio Abbate. Quali saranno gli eventi in programma in questi tre giorni? Allora, nei tre giorni c'è in pratica il turnover su circa otto gruppi di canto e invece un gruppo di recite che viene da Chirino, perché classicamente il Chirino di Sant'Antonio venne recitato e non tanto cantato come invece è tipico di tutto il tiramano. Quindi da venerdì a domenica, a partire dalle ore 18, il borgo di Cermignano si popolerà? Certamente, si popolerà e si illumina. Abbiamo anche, logicamente, degli ottimi prodotti che sono dei prodotti naturali, noi escludiamo qualsiasi cosa che non sia tipica del posto e poi offriamo a tutti quelli che vengono i nostri famosi uccelletti. Siamo il paese degli uccelletti perché da noi in tutte le case si fanno gli uccelletti e pensare che è tipico proprio di Cermignano perché appena Sant'Andrea a tre chilometri non fa gli uccelletti, cellino a quattro non li fa. Quindi bisogna vederli, gustarli perché sono dei veri ricami che le nostre donne sanno fare con molta perizia. Ora apriamo la pagina dello sport e iniziamo con le designazioni arbitrali per la Serie B. Per Lanciano Provercelli a dirigere l'incontro sarà il signor Marini di Roma 1, gli assistenti saranno Tolfo e Rocca, invece per Pescara Livorno a dirigere ci sarà il signor Serra di Torino e poi assistenti Bindoni e Muto. Ora invece parliamo di Pescara Biancoazzurri a lavoro per la sfida di campionato con il Livorno, disponibile Campagnaro dopo qualche problema fisico e a centrocampo. Non ci sarà Memuschai, intanto la società è vicina al difensore argentino del Carpi Spolli, il servizio. È stato un bellissimo anno, cerchiamo adesso di guardare avanti perché sono sicuro che se si incastrano tutte le componenti può essere ancora più bello dello scorso. È una società che mi ha dimostrato di credere in me e io ho voluto, anche se non è una cosa scontatissima nel calcio, comunque ripagare una società che magari mi ha preso in un momento o meno è una riconoscenza. Poi ho legato tantissimo con il mio preparatore dei portieri Max Marini e questo mi ha spinto a dare continuità più che altro al percorso. Si è creato questo gruppo ma più che per i valori umani, al di là dei ruoli. In campo ognuno dà il massimo, spera di giocare. Abbiamo costruito questo rapporto, è nata questa amicizia poco dopo che sono arrivato. Simone oltre a essere un fortissimo portiere è una persona che io stimo tanto come ragazzo, divertente, simpatico, quindi abbiamo legato. Devo dire che siamo due ragazzi intelligenti, quindi al di là della rivalità in campo finisce poi lì e durante la partita uno sostiene l'altro ed è contento delle parate dell'altro. Ed ora in poi che sarà comunque un altro campionato dove noi dobbiamo riprendere da dove abbiamo finito, vogliamo sempre di più trascinare l'ambiente dalla nostra parte che sappiamo che quando poi il pubblico riconosce nella squadra certi atteggiamenti questa piazza può diventare un dodicesimo uomo. E ora la Lega Pro dopo l'attaccante forte. Il Teramo ha praticamente definito l'arrivo del centrocampista trentenne Cruciani dal Bevenevento. Intanto ascoltiamo le dichiarazioni del tecnico Vincenzo Vivarini. A noi abbiamo un po' bisogno anche di personalità, di carisma in campo e quindi Cruciani è un giocatore che ha dinamismo, aggressività e soprattutto ha anche grande personalità in mezzo al campo, oltre alla sua qualità, è un giocatore che sa giocare a calcio. Speriamo che arrivi ed entri subito in sintonia con la squadra e cerchi che riesca subito a evidenziare le sue doti. Penso che in questo momento qua si stia facendo le cose per cercare di migliorare questa squadra, perché comunque abbiamo evidenziato sicuramente delle lacune nel giro d'andata e le dobbiamo col mare. Quindi di conseguenza ancora una volta la società, che ringrazio, si sta adoperando per fare una squadra più competitiva di quella che era nel giro d'andata. Io da parte mia non sono mai entrato nel mercato, nel senso che ho cercato anche in questa settimana di stare a preparare la partita, cercare di curare i minimi particolari per sabato e di conseguenza non ho parlato né con Da Silva né con Altobello. Loro sono dei giocatori, sono dei professionisti e devono fare quello che gli aspetta fare. Si sente parlato magari pensando, non lo so, a livello di indicazioni mie, ripeto, bisogna vedere chi è che vuole rimanere, quello che ho sempre detto qua e chi magari invece vuole cambiare aria. È chiaro che noi abbiamo in questo momento qui un attaccante, una prima punta, un attaccante che attacca bene la profondità, attacca bene la porta. È chiaro che ci vuole un altro attaccante che faccia gol ma che abbia movimenti più tra le linee. Ed ora una news di Calciomercato per il Teramo. C'è il secondo innesto del nuovo anno per la Teramo Calcio, la società Biancorossa acquisita a titolo temporaneo dal Benevento Calcio il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Michael Cruciani, classe 86, contrattualizzato fino al 30 giugno 2016. La carriera di spessore dell'ex Sannita che ha toccato l'Abruzzo già in passato con Virtus Lanciano e Valle del Giovenco. Oltre a vestire in passato le maglie di Casertana, Matera, Aprilia e Gela, timbrando complessivamente 224 presenze con l'aggiunta di 18 reti. Ora parliamo di L'Aquila. Questa mattina la dirigenza Rosso Blu ha tenuto a rapporto la squadra al campo di Acquasanta per incoraggiare i giocatori in vista del girone di ritorno e della sentenza sul calcio scommesse e queste sono le immagini che abbiamo girato in esclusiva. Noi di TV6 vediamo. A volte è nelle difficoltà che si riesce a fare più di quanto si possa pensare. È questo il leitmotiv che questa mattina ha caratterizzato il discorso della dirigenza dell'Aquila Calcio alla squadra. Il presidente Corrado Chiodi, il suo vice Massimo Mancini e il tecnico Carlo Perrone hanno parlato ai giocatori prima dell'allenamento sul campo di Acquasanta, dando loro coraggio e motivazioni in attesa della sentenza della giustizia sportiva, che all'inizio della prossima settimana decreterà i punti di penalizzazione in classifica per l'inchiesta sul calcio scommesse. In sostanza, uniti e compatti dal primo all'ultimo, si può compiere l'impresa di salvare la Lega Pro a dispetto dei punti di penalità. Una missione solo per uomini veri, come ribadito poi dal capitano dell'Aquila Claudio De Sosa, che dopo gli interventi di tecnico e società ha preso la parola per promettere a nome dei compagni il massimo impegno in campo e per cercare di tenere lontane le vicende giudiziarie. Intanto, passando al mercato, si aspetterà la prossima settimana per ufficializzare l'arrivo di Emanuele Pesoli. Il motivo del ritardo? Un piccolo problema muscolare al polpaccio che permetterà all'ex difensore del Pescara di essere disponibile non prima di una decina di giorni. Da segnalare inoltre la presenza da ieri di un nuovo difensore. Si tratta del giovane croato classe 1997 Tony Farias, che questa mattina ha conosciuto personalmente il presidente Corrado Chiodi e il suo vice Massimo Mancini. E con lo sport concludiamo anche la terza edizione del TG6. L'appuntamento con l'informazione torna domani puntuale alle 14. Buonanotte.